Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì nelle acque antistanti il bagno d'ori a Via Reggio. Un ragazzo di 23 anni di nazionalità del Camerun, Gurlan Serge Goat, ha perso la vita negando in amare nonostante l'intervento dei bagnini del dori e della flora che l'hanno rianimato una volta portato a riva insieme al medico intervenuto con l'ambulanza della Croce Rossa. Faceva parte di una committiva che avevano trovato alloggio nel pomeriggio sugli scogli del Moro. L'allarme è stato dato da alcune ragazze che erano in pedalò. Sono intervenuti anche alcune persone che erano in mare. Infatti l'ha vista la ragazza lì, la ragazzina, però magari lui era già da tante che era così, ha bevuto dell'acqua e non si è accolto prima di questa ragazzina. C'è stato magari prima e se qualcuno lo vedeva, magari non si sa. Sul posto anche personale della Capitaneria di Porto per i rilievi del caso.